salve benvenuti da io bimbo siamo alle porte del natale e vogliamo mostrarvi le tante idee regalo disponibili nei nostri punti vendita cominciamo dal reparto giocattoli e andiamo da valentina la nostra esperta nei giochi venite ciao a tutti posso dire che vale la pena fare due passi e venire a trovarci le novità sono tantissime e anche gli sconti soffermiamoci ora nel reparto di puricultura pesante e andiamo da Roberta sì certo da noi troverete carrozzine lettini bagnetti seggioloni box girelli e tutto ciò che corre al vostro neonato musica 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 ci troviamo nel settore tessile abbiamo tantissimi piumoni bellissimi copertine e persino lenzuola coordinate e nel reparto alimentazione troverete biscotti omogenizzati succhi di frutta merende e il pranzo del vostro bebè è assicurato musica 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 ci troviamo nel settore abbigliamento siamo specialisti del corredino pratico comodo ed elegante ma anche conveniente in questo periodo